E l'ite all'Euca tra l'amministrazione comunale di Castrignano del Capo e i gestori del ristorante La Sagrestia. In ballo è stato tirato anche il parroco, al centro della questione, la pedana per il posizionamento di tavolini. E' stata presentata richiesta di concessione di spazi a Repubblica da un'impresa diversa da quella all'insegna La Sagrestia. Il primo giugno abbiamo presentato una richiesta, dal primo giugno c'è stato un silenzio generale. Il sindaco Santo Papa respinge le accuse e pretende le scuse. Il carteggio presentato per le varie richieste è risultato in un primo momento incompleto. Le dichiarazioni lasciate dall'avvocato e dal socio sono talmente gravi che noi ci stiamo riservando la facoltà di adire le vie legali, salvo che non abbiano il coraggio di chiedere scusa. Ad oggi non mi sento di dover chiedere scusa a nessuno. Forse l'amministrazione dovrebbe pensare di dover chiedere scusa alle cinque famiglie che rischiano di non poter percepire un reddito. Don Giuseppe Endino, parroco della Chiesa Cristore, preferisce non rilasciare dichiarazioni in telecamera ma ci dice che accetta quanto la sovrintendenza, chiamata in casa dal Comune, deciderà. Per lui è prioritario salvaguardare il decoro della Chiesa. Il parroco ci aveva lasciato, aveva inviato una diffieda perché non si può accostare niente ai beni culturali tipo la Chiesa se non vi è un'autorizzazione o presaggizia. E a tal fine abbiamo richiesto alla sovrintendenza un parere, se si poteva rilasciare o meno, ciò in base al decreto legislativo del 2004.